amici di telefonino punto net video che sto registrando con l'htc desire ai video in full hd a 50 frame al secondo catturati con la fotocamera posteriore di questo device che da 13 megapixel con sensore bsi 13 megapixel come anche tra l'altro la fotocamera anteriore presente la decolazione continua di messa a fuoco ed esposizione proviamo subito un controsole inquadriamo una zona più ombreggiata abbastanza morbida la regolazione dell'esposizione proviamo dei movimenti un po più rapidi e proviamo anche ad effettuare uno zoom digitale audio che viene catturato da tre microfoni proviamo ad avvicinarci al tronco e a mettere a fuoco e ci in strada con l'htc desire ai seguità video editing video , video 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 io video